Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove si segnalano code per un incidente avvenuto al km 75 e 400 tra Pisa Centro e Pisa Aeroporto, in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Eraovest con Sacco. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per mezzi in lento movimento tra Firenze Impruneta e Firenze Nord. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, Firenze in via Lamedola fino al 15 settembre resterà chiuso il controviale tra Viagiotto e il numero civico 48. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!